Il futuro di Ciccio Messina sarà ancora a Solofra? Domani sera noi con la società chiuderemo l'annata calcistica facendo una scena con tutto lo staff, calciatori e tutti i componenti della società. Diciamo che da parte mia ci sta ampia disponibilità a continuare il progetto con il Solofra, però siccome probabilmente ci saranno dei cambiamenti a livello gestionale per una questione logistica che devono fare il nuovo stadio, perché sono arrivati dei finanziamenti, loro probabilmente prenderanno delle decisioni che forse non ci sarà continuità perché non rifaranno la categoria di eccellenza. Però questi ancora sono dei discorsi un po' prematuri da fare, insomma a giorni credo che la società farà un comunicato e poi di conseguenza si prenderanno le dovute scelte da entrambi. Facendo un bilancio su questi anni forse sia stato questo l'anno un poco più difficile? No, perché difficile? Diciamo che è stato il più travagliato, ma difficile no, perché poi alla fine in questi anni, dal primo anno che sono andato a Solofra siamo cresciuti tantissimo, abbiamo raggiunto sempre gli obiettivi che ci siamo prefissi a inizio anno, sempre scelto oculate con la società, di crescita, di organizzazione, di organigramma e credo che anche quest'anno abbiamo dimostrato la stessa cosa. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, volevamo fare una salvezza un po' più tranquilla, cercando di allestire la squadra, diciamo, con una percentuale del 20-30%, sempre sulla carta migliore di quella dell'anno scorso. Diciamo che, come l'anno scorso, abbiamo raggiunto la salvezza l'ultima giornata, arrivando noni a 5 punti dalla quinta ultima. Diciamo che il ruolino di marcia di percorso fuori casa ci ha condannati un poco, perché in casa siamo stati la quarta forza in casa del campionato. Se avessimo fatto la metà dei punti che facevamo in casa o fuori casa, insomma, stavamo abbondantemente nei play-off. Voglio dire, però, sono dei percorsi che a volte non ti danno quello che ti aspetti e alla fine ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto sul campo. Quando è stato importante inserire un giocatore come Tirri a campionare in corso? Allora, Mario non è un calciatore che scopriamo adesso, anche perché ho avuto il piacere di giocare con me quando era ragazzino, quando ero un under, io già stavo quasi a fine carriera e già da là sapevo che aveva delle grandi doti e qualità sia calcistiche che umane. È stato una volta a farlo venire con me, anche perché ci lega un'amicizia che va oltre il calcio. E ha contribuito tanto perché è un leader, è un giocatore carismatico, è un giocatore di grandi dote umane e nello spogliato è servito tantissimo.